De Sanctis, oggi in conferenza stampa denunciate uno scempio ambientale, così lo avete definito, che si starebbe consumando in una zona del Parco Nazionale d'Abruzzo. È uno scempio di gravità inaudita e da decenni non vedevamo fortunatamente uno proprio di tali dimensioni nel parco più famoso d'Italia, il Parco Nazionale d'Abruzzo. Stiamo parlando di una strada sterrata che per chilometri entra in un territorio meraviglioso, una strada sterrata che c'era e che tale doveva rimanere, anzi doveva essere chiusa al traffico, secondo lo stesso ente Parco, solo che adesso l'hanno deciso di asfaltarla e adesso per chilometri c'è un lungo nastro serpentone d'asfalto che deturpa questi luoghi in maniera irrimediabile. È come passare il pennarello nero su un'opera d'arte, il regno dell'orso, del lupo, il Parco dovrebbe fare marcia indietro perché ha dato un'autorizzazione a nostro avviso totalmente illegittima, ha sbagliato, deve tornare indietro annullando quelle autorizzazioni e noi vogliamo il ripristino dei luoghi perché la natura deve essere meravigliosa, c'è un'indignazione che sta correndo sul web. Io solo sul mio profilo Facebook ho avuto 4.500 condivisioni, cioè praticamente milioni di persone stanno guardando questo ascempio che si sta verificando in Abruzzo e noi crediamo che il Ministero dell'Ambiente debba intervenire, anche le procure, abbiamo mandato degli esposti e poi pensiamo anche che i responsabili debbano anche pagare, anche con le dimissioni per esempio del direttore del Parco che ha autorizzato questi lavori.